Nel 2000 si laurea in lettere moderne con indirizzo Storia dell'Arte Contemporanea all'Università di Padova. Nel 1992 inizia a lavorare come modella. Poi lavora in campo pubblicitario. Nel 2003 autrice e conduttrice della rubrica La piccola enciclopedia dell'arte contenuta nel programma Style sul canale Leonardo di Sky Italia. Nel frattempo si classifica seconda al concorso indetto, all'interno del programma televisivo Velone. Per scegliere la nuova annunciatrice di Canale 5, che sostituirà Fiorella Piero Bon, tra il 2003 e il 2004 frequenta un corso di recitazione presso il Centro Teatro Attivo, CTA, di Milano, con Nicoletta Ramorino e Emiliana Perina. Nel 2004 debutta come attrice, diventando subito nota al grande pubblico grazie al ruolo di Irene Monteleone interpretato fino al 2006 nella sopopera di Canale 5, Vivere. Nel 2006 debutta sul grande schermo con il film Vita Smeralda di Jerry Cala. L'anno successivo è, nel ruolo di Emanuela Asetti Carraro, al fianco di Giancarlo Giannini nella miniserie TV il generale dalla chiesa di Giorgio Capitani. Inoltre conduce una rubrica dedicata all'arte del Novecento su L e I7, all'interno di Omnibus Fessate, tra i successivi lavori, ricordiamo, le miniserie TV Coco Chanel, 2008, regia di Christian Duguay, Il bene e il male, regia di Giorgio Serafini, Puccini, regia di Giorgio Capitani, L'uomo che cavalcava nel buio, regia di Salvatore Basile e la serie TV Un medico in famiglia in cui è tra i protagonisti con il ruolo di Bianca Pitaluga nelle stagioni 6, in onda nel 2009 su Rai 1, 7, in onda nel 2011, e 8, in onda da marzo 2013. Nel 2013 è la protagonista di tutta la musica del cuore, serie televisiva in sei puntate trasmessa su Rai 1 a partire dal mese di febbraio, sempre nel 2013 e al fianco di Luca Zingaretti nella miniserie televisiva Adriano Olivetti, la forza di un sogno nel quale interpreta la moglie di Adriano Olivetti, interpretato dallo stesso Zingaretti, nel 2016 rivestirà i panni di Bianca Pitaluga nella decima serie della serie televisiva italiana. Un medico in famiglia